Carissimi telespettatori e cari amici, buona serata, pace e bene in tutti i luoghi e visto che l'estate è ormai entrata nel pieno svolgersi del tempo e anche buone vacanze per chi già comincia ad andarci, l'argomento di stasera, quale argomento migliore? Siamo verso la fine di giugno, programmazione di vacanze ormai alla grande per tutti, per chi può, uno può fare anche una vacanza più breve, anche qualcosa di più semplice, infatti abbiamo chiamato la puntata di questa sera, il pellegrinaggio alla ricerca del trascendente, facile viaggiare oggi, qualcuno dice per chi c'ha i mezzi, ci sono diverse opportunità, potremmo dire diverse mediazioni, chi ne ha molti si farà un turismo fai da te, va molto di moda, possono andare anche in luoghi tropicali, extraeuropei e via dicendo, chi ne ha meno può fare anche semplicemente un piccolo pellegrinaggio, un viaggio tranquillo in luoghi più vicini, spendendo meno a seconda di opportunità, possibilità e ovviamente desiderata. E con loro noi vorremmo prendere nel pellegrinaggio, usare tre definizioni, la ricerca del vero, la ricerca del bello, la ricerca dell'infinito, cioè del trascendente, del divino. Certamente, testimonianza forte, con sobrietà e gratuità. E prendiamo spunto da un recente convegno avvenuto proprio quello che sono gli operatori dei peregrinaggi, dove uno dei responsabili, questo padre Jean-Paul Hernandez, docente di teologia dell'arte, addirittura dell'arte, della facoltà gregoriana di Roma, ha fatto una bella relazione. Io ho preso qualche spunto, mettendoci un po' anche dall'esperienza personale, e mettendo in evidenza che va recuperata la cosa più importante in un peregrinaggio, il messaggio che da un certo luogo si può estrarre. E' vero, se io vado in questo momento in una città d'arte, devo sapere che cosa c'è lì da raccogliere, da costruirci anche dentro di noi, per ciascuno che ci va, una preparazione culturale. E' vero, il gusto del vero, del bello e del trascendente formano il cammino di ogni persona. Perché uno deve andare in un posto piuttosto che in un altro? Ah, ma vado lì perché c'è il tale artista, oppure c'è la tale architettura, ci sono quegli edifici. Eh, ma questo è il gusto del bello. Eh, ma hanno raccontato che c'è delle cose straordinariamente belle anche nei panorami, della natura. Eh, e andiamo avanti così. Oppure sono pellegrinaggi più di natura religiosa, eh, andare a Lourdes, in Terra Santa, a Fatima o a Loretto, nei santuari. Ma sai che esperienza si vive quello che viene a casa? E le racconta. E un altro è coinvolto, dice ma sai che bello, vado anch'io. Ecco, l'interesse ispirativo può avvicinare la comprensione di quello che diventa un percorso di vita. Diceva questo esperto, questo padre Hernández, non si sta lì oggi a predotare. A volte la gente va, sono una presenza sincera, che aspetta. E troviamo a volte, lui ha fondato un'associazione che si chiama Pietre Vive, per accogliere i pellegrini in alcuni luoghi significativi della fede. Perché è importante lo stile di accoglienza. Un incontro da persona a persona. Non importa se si tratta di turismo religioso o culturale, se chi entra non viene per pregare, è importante che entri. Con un desiderio, confrontarsi. A volte è bello andare in un luogo che mi ascolta e magari l'ha vissuto, lo può condividere. E trovare gente che non si ferma a una spiegazione dotta, erudita, di tutti i particolari, che dopo tre minuti hai già dimenticato tutto, quasi. Ma che ti coinvolge, sì, dicendo che qualcosa di, tecnicamente parlando, valido, giusto, opportuno. Ma il cui scopo non è darti delle belle informazioni, ma creare una relazione. Far sentire il pellegrino, il turista, il curioso, il cosiddetto itinerante, a suo agio. Può fare una guida turistica anche, se lo fa un'associazione, se lo fa un gruppo, se lo fa magari anche un tour leader, che parola che adesso si usa. Quello che porta il gruppo, l'organizzatore, ben venga. L'importante è questo traguignon, questa unione profonda tra il pellegrino turista e via dicendo che va in un luogo e la realtà del luogo stesso. Certo che il gusto del bello, ad esempio, del nostro paese è molto sentito. Non c'è città, non c'è luogo. Potremmo dire non c'è quartiere, specialmente qui nelle nostre regioni del nord, ma anche nel centro-sud, dove non ci siano splendidi e diremmo raffinati lavori artistici, dal quadro all'iconografia, ai vetri, all'architettura di tante chiese, di tanti castelli, ai mobili e via dicendo, alle centinaia di opportunità che la creatività artistica dà. E allora saperci sottrarre alle pretese del lusso e del tutto comodo. Questo può essere uno slogan che lanciamo come provocazione. Quante volte anche a me è capitato di gente che viene a fare i peregrinaggi anche in luoghi tipo Lourdes e che pretendono trattamento da 5 stelle o che si lamentano se manca qualcuno dei supporti in più. Non c'avevo il minibar in camera. Ecco, cercare la bellezza, che non è solo quella estetica, è la bellezza intesa nella sua, potremmo dire, armonia. È una qualità della vita che sottrae alle pretese. Non dirà da volgari, che sono talvolta il denaro, il consumo, il lusso. Un turismo religioso che voglia intercettare il desiderio dell'uomo viato, cioè dell'uomo in cammino, non può evitare il confronto con questa esperienza. Ecco, la sobrietà fa parte di quello che noi chiamiamo e potremmo chiamare l'essenzialità. Certo, non cadiamo nel fare del turismo un mero e proprio solo e soltanto desiderio di tanti servizi o solo un riposo pigro e piuttosto spento a livello culturale. Questo è un rischio. Se su uno smarrisce la bellezza, che è una dimensione interiore che abbiamo dentro tutti noi, il pregenaggio la deve riattivare. Può essere anche la bellezza, come dicevo prima, di un bel panorama, splendido. Uno diceva, sono andato su una montagna, cosa ho visto? Non ci bisogna andare tanto lontano, le nostre montagne varie sorte sono sprendite, dalla Valcuvia alla Val Travaglia, alla Valganna e via dicendo. Ma certamente il fondo di quello che cos'è? La volontà di crescere. Il pellegrino, il turista, l'uomo viato, come l'ha chiamato anche Monsignore Pompili, che è il vescovo di Rieti, Don Domenico, ecco molto attento anche lui a queste dimensioni del pellegrinaggio, fa comprendere la dimensione religiosa che non è soltanto la preghiera intesa come celebrazione di riti. Certo c'è anche questo, se uno va a Terra Santa o a Lourdes, certo c'è anche questo, ma è la capacità di una persona di interiorizzare un messaggio. Ecco, di fronte alla creazione, ma di fronte anche alla realizzazione artistica di tanti pittori, scultori e via dicendo, maestri dell'arte, uno resta in contemplazione. Che bello quando si va in una chiesa e si resta lì a contemplare le bellezze che ha. O anche senza bisogno di andare tanto lontano, uno va nel proprio luogo dove vive e si lascia un po' incantare dal bello che trova. Quel bello che spesso è un richiamo al divino, se è un bello religioso, o comunque è un richiamo attraverso l'arte, a qualcosa di grande che abbiamo dentro tutti noi. Il bisogno di comunicare, un'esperienza. Il bisogno di comunicare un incontro, il bisogno di trasmettere un messaggio positivo. L'arte trasmette sempre un messaggio positivo, di speranza, di fiducia. E allora fare esperienza di questo incontro. Il turismo religioso è l'essere esperienziale. Trasforma i territori in luoghi di esperienza della bellezza, culturale prima che turistica. E creare insieme una rete virtuosa con cui intraprendere un cammino lento nel divenire. E qua io spezzerei brevemente una lancia, se si considera la metafora, a favore dei pellegrinaggi lenti. Stanno davvero maturando parecchio. Non ci credevo nemmeno io, ma deviso, ho potuto constatarlo facendoli pure io, con i miei fedeli. I pellegrinaggi come il cammino di Santiago, un po' è l'emblema dei pellegrinaggi lenti a piedi o in bicicletta, è anche ridisegnato nel nostro paese, la via Francigena, la via degli Abbati, il cammino di Francesco, il cammino di Benedetto, il cammino di Sant'Antonio e via dicendo. Ma che cosa ha di così tanto caratteristico? Semplice. Valorizzare l'enorme eredità culturale e spirituale che si è ricevuto. Lì c'è il tempo di quegli incontri diluiti, calmi, con le persone che fanno il pellegrinaggio, con le persone che si incontrano nei luoghi del pellegrinaggio, nella sobrietà di accoglienze, spesso anche un po' spartane, poi dipende dall'età, i giovani sono più spartani, noi con qualche anno in più magari una pensioncina un po' più elevata di qualità la cerchiamo, ma sempre mettendo al primo posto un valore, capire dove stiamo andando, cosa stiamo facendo e cosa possiamo raccogliere dai vari luoghi che stiamo visitando. Ecco perché relazione tra una comunità e il suo ospite porta sempre a un altro valore, quello di voler trasmettere l'esperienza di un pellegrinaggio, l'esperienza di un viaggio ad altri, perché coinvolgendosi sappiano vivere lo stupore, la meraviglia e diremmo la volontà di continuare a cercare attraverso il pellegrinaggio, attraverso questo tipo di esperienza, l'incontro con il divino, che era chiuso in tutto quello che abbiamo detto, soprattutto il bello, il sacro, porta al divino, perché ne è un'emanazione. Cari amici, faccio venire voglia di viaggiare, ecco se avete in mente qualche bel viaggio, buona estate, dal turismo fai da te a quello delle agenzie, l'importante è che uno sappia cosa sta facendo e dove sta andando e con chi lo sta organizzando. Tanti auguri a tutti, buona serata e buone promesse di vacanze imminenti. Pace e bene. Grazie a tutti.